Io non voglio essere un burattino. Ci sono tutti i personaggi principali del romanzo di Collodi, nel Pinocchio di Garrone. Geppetto e il suo burattino, Lucignolo, Mangiafuoco, fino ad arrivare all'omino di burro, il tonno e la balena. Perché questo nuovo adattamento di una delle favole italiane più note al mondo è enormemente rispettoso dell'originale. C'è una cura devota nella ricerca delle facce giuste, negli scenari, nei dettagli dei costumi, del trucco, degli effetti speciali artigianali. In questa cura c'è tutto l'amore e la reverenza che Garrone ha verso il testo, il suo perfetto dosaggio degli elementi narrativi e della caratterizzazione dei personaggi. Gli interpreti sono perfetti, benigni, trattenuto e straziante, il piccolo Yelapi, minuto ma tosto. Filologicamente è un film impeccabile, più adulcorato rispetto all'originale, ma che lascia negli occhi l'incanto.